Bentornati ragazzi all'ultimo modulo quanto riguarda anche il capitolo delle pentatoniche della Scala Blues. Andiamo a vedere come metterle in pratica, che è una cosa che ci interessa di più. Allora, innanzitutto, come vi avevo detto la scorsa volta, la lezione precedente, le pentatoniche si usano più o meno in tutti i generi musicali, in tutti i contesti, stando diciamo bene ovunque, con le giuste cautele ovviamente. Quindi ovviamente su un accordo maggiore, diciamo ad esempio Bb, ci sta benissimo ovviamente la pentatonica maggiore. Abbiamo però anche l'opportunità di cambiare un po' il colore alla nostra improvvisazione, al nostro groove, quello che sarà, con dei piccoli, diciamo, trucchetti, che è il mio preferito ad esempio su un'area pentatonica, una quarta sotto o una quinta sopra. Cosa succede se io in questo caso, su un accordo di Bb, suono la pentatonica maggiore di F, invece della pentatonica di Bb. Vado a suonare delle note che non fanno parte della triade, dell'accordo, che cambiano, mi fanno cambiare appunto il colore della mia frase, improvvisazione, ripeto, quel che sarà. Perché vado a suonare F che va bene alla quinta, di Bb, il G che è la sesta, quindi non ce l'ho nell'accordo, la settima maggiore, la, la seconda maggiore, che è il Do, e il Re, che è la terza maggiore, quindi ho queste tre note, diciamo, la sesta, la settima maggiore e la nona, che mi permettono di cambiare un po' il colore. Questo è uno dei consigli, quindi su un accordo maggiore, ricordatevi, la pentatonica una quarta sotto o una quinta sopra, quindi il prossimo Do pentatonica di Sol maggiore, ci sta, a mio parere, molto bene. Se invece l'accordo è major sound, quindi in Bb, aggiungiamo un A, quindi se nell'accordo c'è proprio il A, un'altra opzione, quindi che ci tende un po' al Lidio, la sonora di casa che mi piace Lidio, è quella di dare un tono sopra, quindi in Bb, invece la pentatonica di Bb maggiore, quella di Do maggiore. Questo succede perché io suonando la pentatonica di Do, però Do, che è la seconda maggiore di Bb, il Re, che è la terza maggiore di Bb, il Mi, che è la quarta diesis, qui il Lidio, la sonora di Tal Lidia di Bb, il Sol, che è la sesta maggiore, e il La che è la settima maggiore, che è appunto nell'accordo, quindi questa è un'altra opzione. sugli accordi di settima, quindi Bb7, le opzioni sono veramente tante e alla fine di questo video farò degli esempi di groove, di improvvisazioni in vari contesti e su vari accordi, ho scritto cosa utilizzo su ognuno di essi, in linea di massima, comunque la cosa principale è che sull'accordo di settima possiamo suonare sia la pentatonica maggiore, che ha tutte le note, diciamo, in, ma sia quella minore, quindi il Sibb9 minore. Quindi l'accordo è maggiore, settima minore, ci posso suonare la pentatonica minore. Altro contesto dove personalmente non la uso tantissimo, però viene usata come, è nell'ambito jet. Quindi, andiamo un attimo a sentire il discorso dell'accordo di settima, metto la base, Sibb7. proviamo sia la pentatonica maggiore che il minore. Proviamo quella maggiore. 70 windsor Saluri voltamente 5 Risole la sonorità è abbastanza normale, l'amore a quella minore il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info se le combino queste due pentatoniche diventino ancora una cosa più particolare quindi le opzioni sono veramente tante divertitevi anche qui a sperimentare e ora vi faccio un po' di esempi uno in seguito all'altro con scritto cosa utilizzo e su quali accordi in generi diversi e poi passeremo agli ultimi capitoli del nostro corso per qualsiasi domanda vi invito ancora una volta a scrivermi qualsiasi critica, qualsiasi dubbio sono qui per voi e poi ci vediamo al prossimo video Grazie a tutti 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 Grazie a tutti